Abilitazione e modulo pagamento con Paypal Oltre a un sacco di altri tipi di pagamento, praticamente tutti quelli in commercio, dal bonifico al contanti al cash, si può abilitare anche Paypal Per abilitarlo si va dentro a estensioni e poi pagamenti Qui c'è una lista di pagamenti infinita per cui andiamo a capire Paypal Eccolo qui, abilitato, se non è abilitato lo abilitiamo Modifica, qui andiamo a mettere l'indirizzo nostro di Paypal dove accettiamo gli ordini, quello che usiamo per entrare Modalità test, sì o no Quindi la vendita come metodo di transazione, tutte le zone, abilitato Lo stato dell'ordine per cui Paypal deve essere funzionante è completo Perché se mettiamo un altro stato di ordine lui non lo prende in quanto non lo considera completato e quindi non deve essere pagato l'ordine Qui ci sono gli altri stati di ordine, noi salviamo ed ecco che Paypal è abilitato Nelle opzioni di acquisto di un qualsiasi oggetto Andiamo ad acquistare questo Checkout, andiamo giù Continua, ora continuiamo con le note, mettiamo delle note Metodo di pagamento Metodo di pagamento ed ecco che abbiamo scelto Paypal, possiamo sceglierlo Quindi continuiamo, conferma l'ordine E mentre confermiamo lui ci guida nel nostro sito di Paypal dove possiamo pagare i prodotti Grazie Grazie Grazie.